Il manifesto per il centro-destra futuro è quello scritto appunto da Claudio Borghi Aquilini in prima pagina sul foglio. Una lettera al direttore che è anche appunto un manifesto per il centro-destra. Qualche punto, scrive Borghi Aquilini, utile a chiarire la posizione della Lega Nord su temi concreti, da cui potranno discendere o meno alleanze con altri partiti o movimenti. È una ritualità abbastanza curiosa, perché a dire il vero la posizione della segreteria Salvini e mia, in quanto responsabile economico, scrive Borghi Aquilini, non è mai cambiata ed è sempre stata coerente con quanto prospettato fin dai tempi del congresso federale di Torino nel dicembre 2013, in cui Matteo Salvini fu eletto alla guida del partito. E del resto non avrebbe potuto essere diversamente, perché in Lega il valore della democrazia è molto sentito. Lo posso testimoniare da persona arrivata da contesti lavorativi del tutto estranei alla politica. Qualsiasi cambiamento radicale di linea dovrebbe passare necessariamente per un altro congresso, al contrario di quanto accade in movimenti come il 5 Stelle, che pure proclamano a parole la democrazia diretta, e invece si trovano arruolati dalla mattina alla sera nelle file degli europeisti, con tanto di stima da parte di Mario Monti. Anche se sembra passato un secolo, sono trascorsi solo due anni e mezzo dal congresso del 2013, e, scrive Claudio Borghiaquilini, non dovrebbe essere impossibile recuperare l'immagine di quel congresso in cui la grande novità fu la presentazione sul palco dei rappresentanti di tutti i movimenti che in Europa cominciavano a proporre una grande alternativa alla eurodittatura di Bruxelles. Ebbene, la storia ci ha detto che l'intuizione di Salvini di allora fu corretta. In tutta Europa il rifiuto verso una tecnocrazia orribile e antidemocratica cresce e vince, costringendo i partiti della conservazione a inguardabili grandi coalizioni pur di rimanere aggrappati al potere. È così in Austria, in Francia, in Polonia, in Olanda. È stato clamorosamente così in Gran Bretagna, dove un popolo con la schiena dritta ha spiegato a tutti che se si vuole si può scegliere e che la libertà è valore ben superiore a qualsiasi previsione terroristica sul PIL. Come si fa a pensare che di fronte a una così luminosa prova di autodeterminazione di un popolo, valore sacro per ogni militante della Lega, noi possiamo sentirci attratti da progetti di minestre riscaldate con vecchi arnesi dell'europeismo italico? Quale esercito, in vista del successo, vorrebbe mai arrendersi per allearsi con gli sconfitti? Non spetta a me giudicare la bontà delle scelte degli altri partiti, prosegue Borghi Aquilini. Noi siamo i rappresentanti dei nostri elettori e il fatto che più del 50% degli italiani sia avverso a quest'Europa ci indica che il lavoro da fare per dare loro rappresentanza è appena iniziato. Ed è un lavoro che va proprio nella direzione opposta a quella di chi vorrebbe grandi alleanze con gente che mai e poi mai si ribellerebbe a quell'Unione Europea nel cui grembo hanno costruito le loro piccole fortune personali. Da ciò si può capire che le telenoveli estive su Parisi o non Parisi per noi sono irrilevanti. Noi proponiamo un programma preciso e una direzione chiara da presentare agli italiani in vista delle prossime elezioni politiche. Su questo programma auspichiamo la più larga convergenza possibile ma di certo non siamo disposti a metterci insieme con chiunque per vincere a ogni costo con la matematica certezza poi di non riuscire a realizzare nulla di quanto vogliamo fare. Ricordiamo velocemente ancora una volta i punti di questo programma su cui siamo disposti a discutere su tutto, per esempio tipico, l'aliquota ottimale della flat tax ma certo non a snaturarne lo spirito di base. Il decalogo era già stato presentato tanto tempo fa. Viene riproposto oggi. Punto primo. Prima il lavoro in Italia per gli italiani come da Costituzione italiana. Articolo 1. L'Italia Repubblica fondata sul lavoro. Punto 2. Riprendere sovranità ancora come articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo. Punto 3. Stop immigrazione incontrollata. Quattro. I risparmi sono sacri. Quinto. La società si basa sulla famiglia tradizionale. Sesto. Il fisco e il sistema pensionistico devono essere giusti. Settimo. Rispetto per le comunità e le autonomie. Ottavo. Difesa è sempre legittima. Nono. Il vincolo di mandato per gli eletti. Decimo. Padroni a casa nostra. Chiaro, semplice, lineare. Scrive e conclude Claudio Borghi Aquilini, in quanto responsabile economico della Lega Nord. Come vedi, caro direttore, scrive Borghi Aquilini, siamo sempre fermi a un programma e a cose concrete che dovrebbero interessare i cittadini molto più di chi sarà il leader o di chi verrà all'ennesima convention. Si tratta di temi ben diversi da quelli in campo nelle elezioni per i sindaci e sui quali non si potrà evitare di prendere posizione, come quando la Brexit ha costretto i rappresentanti dei partiti tradizionali a schierarsi di qua o di là. Poi decideranno gli elettori. Ovviamente, conclude Borghi Aquilini, la maggior parte di questi punti è in diretto conflitto con l'orrenda riforma costituzionale Renzi-Boschi e questo sarà il primo punto di separazione. Nessun sostenitore del sì potrà essere credibilmente nostro alleato. Ci aspettano mesi molto difficili. Gli italiani sono stufi di politici che si prendono il loro voto per fare poi tutt'altro rispetto alle promesse. Insistere sul programma è la miglior garanzia che possiamo dare agli elettori, soprattutto ai milioni di sfiduciati che da tempo hanno deciso di non votare più. Così Claudio Borghi Aquilini, in prima pagina sul Foglio.